Piero Di Cristinzi, allora si è appena concluso il consiglio del Comitato regionale Molise, le novità? La novità più importante è che il 7 il Governo ha fatto un nuovo decreto che praticamente va incontro alle esigenze di quelle che sono tutte le attività calcistiche, direttandistiche e giovanile che a breve è possibile ricominciare a giocare, a fare le attività di contatto, l'utilizzo di nuovo degli spogliatoi e sono previsti anche gli spettatori sui sparti. Questo vuol dire ritornare a vivere quello che è proprio il calcio in tutta la sua integrità. Naturalmente bisogna aspettare un attimo anche che la regione Molise, dove non ha fatto altro che ha prolungato un decreto già in atto perché al momento ancora non c'era questo nuovo decreto da parte della regione che è stato prorogato fino al 15 ottobre ma credo che a breve il Presidente Toma farà un nuovo provvedimento che non farà altro che andare incontro a quello che è il decreto a livello governativo che riguarda un poco tutta l'Italia e tutte le attività calcistiche in Italia a livello giovanile e scolastico. Certamente. Allora, quindi hai già preso un appuntamento con il Governatore Toma proprio per affrontare questo discorso. Noi siamo sicuri, siamo certi perché lo conosciamo, che sarà assolutamente sensibile e disponibile. Quindi le date restano confermate. L'ultima domenica di agosto si parte con la Coppa Italia, il 13 settembre con i campionati di eccellenza e promozione. Sì, certamente oggi abbiamo confermato le stesse date, abbiamo fatto anche i gironi della Coppa Italia di eccellenza e promozione, abbiamo fatto anche i ripescaggi, uno soltanto in eccellenza, che è andato a favore della nuova società dalla fusione San Leucio-Volturnia di Cerra Volturno e dei ripescaggi nel campionato di promozione. Un campionato di promozione che ritorna a 16 squadre con tre società ripescate, che praticamente è una società che hanno fatto tutto secondo la norma e hanno diritto. E il quartiere di Campobasso Nord, che sembra che entri in una collaborazione con le ACRI, in particolar modo col Mirabello, non vado errato, è di un progetto molto molto importante sul Campobasso, proiettato maggiormente sui giovani, e la polis pedacciata e il Guardi Alfieri. Il Guardi Alfieri è la prima avente diritto, la seconda è il quartiere Campobasso Nord, il terzo è la polis pedacciata. C'è una grande voglia di ripartire, di giocare, questo è proprio quello che sentiamo giorno dopo giorno, a tutti i livelli, in qualsiasi attività, anche il Calciacinque, ci sono ottime speranze che si ritorna da un girone unico a due gironi di nuovo, perché c'è l'attesione di nuove società che vogliono partecipare. Anche il Calciacinque al femminile avremo un numero maggiore di quello che è stato lo scorso anno e ci aspettiamo delle risposte abbastanza concrete da parte del settore giovanile che sicuramente avremo. Gli organici di eccellenza e promozione sono completi, peccato per il Don Kei Sagnono che aveva diritto a partecipare al camminato di promozione, però essendo che noi avevamo un regolamento che parlava di perentorietà nell'iscrizione, è arrivato con un poco di ritardo nei giorni successivi alla scadenza dell'iscrizione e il nostro malgrado gli abbiamo dato la possibilità di poter regolarizzare l'iscrizione soltanto in prima categoria. Una prima categoria che è già quasi completa, come minimo a 32 squadre praticamente, è molto meglio della scorsa stagione e praticamente siamo pronti, la parte più corposa di tutta l'attività è pronta, speriamo che possiamo partire secondo le date che abbiamo stabilito, infatti faremo un nuovo consiglio il giorno 20 della prossima settimana per definire pure la prima categoria e incominciare a pensare a quello che è la seconda categoria dove teniamo diverse società nuove in seconda categoria, attualmente sono circa 13-14, però speriamo ancora di poter aumentare questo numero, delle conferme importanti. Certamente, quindi per esempio per il calcio A5 e per il futsal abbiamo naturalmente una squadra in A1, in A2 che è appunto il Cus e poi in Serie B c'è la Chaminade e anche il Venafro e il Torre Maggiore, quindi oltre a queste due gironi, si torna a due gironi del futsal a livello di Serie C1. Ci sono tutte le promesse, abbiamo visto poco fa, le premesse sono buone, c'è molta tesione, società nuove che si sono già concretizzate, credo che sicuramente passeremo a due gironi, due gironi sono importanti perché poi c'è anche un risparmio economico nella prima fase praticamente dell'attività, poi certamente sono i play-off, i play-out, la parte finale del torneo che è una parte molto molto importante che va a definire quale società poi passa ai campionati nazionali. Va bene Presidente, allora grazie per questa intervista perché come hai detto tu siamo venuti quasi live al Comitato Regionale Molise, in bocca al lupo e poi ci vedremo sicuramente per la presentazione dei calendari. Sì, la faremo, speriamo di farlo come sempre abbiamo fatto perché questa è un'altra cosa che manca e il contatto continuo, il contatto umano con i dirigenti società lo chiedono, lo vogliono e noi speriamo di farlo il più presto possibile. Credo che i primi giorni di settembre faremo la presentazione dei calendari di eccellenza e promozione, i quadri sono completi, credo che siamo pronti per ripartire. Poi speriamo molto nella pandemia che si allontani sempre di più e questa è la nostra speranza. Un grazie a voi di Tere Molise che ci date sempre l'opportunità di poter comunicare in tempi rapidi e efficaci quello che è il monto del calcio molisano. Grazie a voi.